Benvenuti a MeteoGiuliaci.it. Dopodomani, giovedì 15 novembre, bel tempo al nord, ma con molte nebbie in pianura di notte nel primo mattino. Nuvole invece in parte al centro, ma soprattutto al sud e sulle isole maggiori, con piogge sulle estreme regioni meridionali e sulle isole per l'arrivo di una perturbazione dall'Africa. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete la perturbazione che ricopre in prevalenza le regioni meridionali e le isole maggiori. Che tempo farà allora dopodomani? Ecco, questa è la situazione del mattino, attenzione alle nebbie al nord, ecco le nuvole al centro, ma soprattutto al sud e sulle isole, le piogge sulle isole maggiori, anche temporalesche, piogge anche sulla Calabria. La situazione è prevista nel pomeriggio, ancora nuvole, soprattutto al centro-sud, piogge sulle isole maggiori, sulla Puglia, sulla Lucania e sulla Calabria, temporali sulla Sicilia. Andiamo a vedere le temperature massime previste per dopodomani, valori intorno a 13-15 gradi al nord e 15-20 gradi al centro, 18-20 al sud e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.